ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video dopo un po di tempo si ripulla su genshin che era stato un momento un po' più tranquillo dopo furina e oggi si pulla per navia siamo stati non tantissimi a pullarla ma più di quelli che immaginavo perché alla fine l'hanno resa un po più versatile rispetto al classico mono geo e niente io sono una grande amante anche per il fatto che mi assomiglia molto ora ho anche i capelli fatti simili oggi appositamente e niente in questo video ci saranno le mie pull e probabilmente uscirà un secondo video con le pull degli altri quindi io vi auguro buona visione speriamo di scudare ho il garantito e voglio provare a prendere l'arma che sarà un dramma però staremo a vedere io intanto vi auguro buona visione ci vediamo nei prossimi video pt 10 pt 20 let's go si parte si inizia andare di quattro stelle speriamo ce ne siano un po' perché io avendoli tutti c6 sono star glitter quindi della disperata ipotesi in cui vada tutto male almeno avremmo una fortuna dalla nostra parte ok vediamo allora qui adesso io ce l'ho abbastanza in fondo il quattro stelle ecco sacroso molto bene perché l'avevo trovato nell'ultima singola che ho tirato nella pace prima con la speranza appunto di far uscire chirara però ovviamente era una scaccia draghe come avete visto ok andiamo a pt 30 4 stelle vediamo allora bella spadina spadina ok arco librino multi delle armi vediamo se c'è un altro quattro stelle è una multi delle armi ok speriamo mi bella e si adorano molte le armi viti 40 niente magari c'è il doppio quattro stelle andiamo 2 e vediamo vediamo oh dopo averne ho trovato 200 prima mi sembrava giusto trovarne una anche a me ora mi sento in pace con me stessa ok andiamo a pt 50 oddio speriamo nel banner armi ci voglia bene speriamo il banner io sono io sto solo con fuori costata a banner armi perché poi tanto sapevo e poi lo prendevo quindi quando me ne frega nulla cioè che esca all'inizio che esca dopo no a me io so tutta l'ansia dei banner armi perché lì si può fare una cosa molto rapida o si può fare una cosa terribile e io sono preoccupata dalla cosa terribile ho doppio quattro stelle allora esistono molto bene triplo molto bene questa è una bella multi mi piace questa è una bella multi mi piace sono due pull e mezza praticamente quindi molto molto bene ok quindi andiamo a 60 il magico pt quindi andiamo a 60 let's go nemmeno il magico pt nemmeno lui ci ha salvato allora niente vuol dire oh magari nel banner armi è che nel banner armi pt 60 è anche vicino al soft andiamo vabbè c'è lei c'è lei c'è lei uno che non avevo costellato era un po' meglio però che gli vogliamo dire 70 ci siamo quasi eh ora poi facciamo quattro singoline e poi l'ultima multina e siamo arrivati e poi si va di là e qui allora poi si piange ah il banner armi buono inizio multi candasia vediamo se ce n'è un secondo visto era abbastanza all'inizio se non nelle singolette che tiriamo per arrivare a 74 adesso tiriamo quattro singole ok allora si ci ritroviamo adesso io mai sunset io mai la 71 infatti eccolo qua quattro stelle bella lancia 72 ok questo è liscio 73 liscio e 74 ok ci siamo è il momento della multina alpiti se non altro l'affrontiamo con uno spirito leggero finalmente le ultime volte ero sempre col 50 e 50 quando cullavo i personaggi invece questa che cinghe mi ha salvato la vita perché io so che tiro questa multi e arriva la mia bambina quindi portiamo a casa la bimba dov'è dov'è la mia bimba dov'è 75 76 77 eccole bellissima 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 guardateci guardate il petto a metto i capelli almeno guardateci siamo la stessa persona siamo la stessa persona guardateci vai si parte pt4 pt14 banner army inizia la scalata terribile però magari kirara off banner qui non sarebbe male o qualsiasi quattro stelle che quando è banner army sono sempre quattro stelle un po' strani ecco tipo questo è un bel quattro stelle non ho nemmeno guardato quali sono i quattro stelle armi ora me li guardo perché non me li ricordo minimamente allora vediamo un po' perché non li so 24 no solo un brutto lag e basta no quando c'è la ruota è sempre brutto lag ecco questo era il mio quattro stelle non del banner no cane no no cane non eri tu non eri tu l'obiettivo non eri tu l'obiettivo ok ok oh buono mouse moon questi non ce li ho rifà in 5 quindi vanno bene ok 34 4 4 star eh se uno non ha pullata nel periodo in cui erano in rate up queste armi non ce l'ha il mouse moon ce l'ho penso di avere anche l'altra ma ce le ho tipo c1 c2 cioè si insomma rifà in 1 rifà in 2 ce l'ho trovato 1 o 2 volte non di più quindi ok ok grazie per il follow su twitch welcome ecco buono un altro mouse moon questo in maniera è faino poi non so se effettivamente siano utili però fanno sempre comodo ok 44 si si poi collezionismo però per le armi 4 stelle come per i pg il collezionismo è collezionismo che li voglio tutti rifà in 5 c6 i 5 no ovviamente però i 4 stelle tutti c6 e le armi tutte le 4 stelle tutte rifà in 5 se no non mi sento in pace bene anche questa la quowoo sembra qualcosa di strano quowoo questo è vero mi ero scordata di cave anche cave devo finire di costellare non che lo userò mai però questa questo lui bene perché lui non ce l'ho c6 quindi bene lui non ce l'ho c6 quindi bene lui comunque potrebbe essere un 5 stelle per quanto mi riguarda design si sono d'accordo sono d'accordo cioè vabbè contenti loro 54 ok ok bene bene a meno lui devo finire di costellarlo mi sa che l'ho fatto c4 in questo momento ho fatto c4 in questo momento bene questi sono promossi penso che sia ormai diventato refa in 5 quello credo di sì non lo so ok ok questa è l'ultima multi prima di quella del 5 stelle se a meno che non esca a erli 64 ok esce alla multi al 5 stelle pregate che sia quella giusta mamma mia preghiamo Mish ce l'ho già c6 peccato questi ormai a Yosa comunque esca più 4 stelle qua che di là di personaggi intendo multi del 5 star ok ok 65 66 67 68 69 e lo sprayer alla grande bello da non averlo averlo rifare in due è stato molto rapido l'ho trovato l'ultima volta no 2 volte fa tipo allora 15 così mi serve scusate ma sennò io non mi confondo dai vediamo se si riesce a trovare nel secondo piti allora fammi girare qua bella una bella arma il flauto vorrei qualche altra copia della claymore se posso proprio pretendere un 4 stelle 25 vediamo vediamo mi puoi dare la claymore please? no ora è il momento dei flauti per tutta la il piti prima non se ne è trovato mezzo poi vediamo eccola eccola qua dicevo questa dicevo questa perché era molto carina molto 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 carina ok finita la multina 35 vediamo se mi portate un po' fortuna 35 non ho niente però magari se vinco il secondo sì sì ma infatti con Alberto poi si deve far perdonare per bene anche a questo giro eh perché ne ho trovato tre navi in 160 multi io in 240 ho una navia e nemmeno la sua arma ancora quindi lui è bene che si inizi già a pensare come si farà a perdonare ok 45 nulla 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 raga sempre nulla bello codice di favonius ok dun 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 bella con un solo quattro stelle almeno la gioia di averne due nime grazie per il fallo va così raga 55 50 50 cioè no quello è 50 e 50 55 5 ah lui dice let's go comunque comunque secondo me albe mi ha fatto pullare cioè ha voluto ha scelto lui di pullare questo giorno qua per togliermi la fortuna perché lui poteva pullare mercoledì e invece ha scelto pullare oggi ma ha ciucciato proprio bene via ogni singola forma di fortuna che io avevo incredibile 100 per cento 100 per cento proprio 100 per cento proprio ok ok allora 65 o è qui o è nelle singole dopo 65 almeno prima della pisi ce l'abbiamo fatta ma tanto non è ma tanto non è però almeno una multi prima wow questo è 56 57 mi ha paura 58 59 60 61 62 63 64 è l'ultima 65 meno male secondo pisi oh mio dio che patire che patire che patire secondo pisi 20 va tutto bene abbiamo la sua arma e abbiamo la c0 gli obiettivi di oggi li abbiamo raggiunti dobbiamo avere la build per lei è già pronta è già pronta la build per lei ma quattro stelle in questa multi non c'era? ah era la rain slasher è vero scusate per me è un'arma a tre stelle da quanto è brutta ok 30 per me scusate la rain slasher è un'arma talmente brutta che non è nemmeno un quattro stelle scusate bene pull sono quelle che ci servono ancora un'altra un'altra ne vogliamo un'altra ancora bravi così ancora bravissimi impeccabile multi da 6 style glitter proprio quello che volevamo multi da 6 style glitter top tutte c6 sono tutte pull questi arigato veramente era questo che intendevo un multi gratis multi mi è costata metalla multi 40 altri quattro stelle grazie ok iniziamo uno un altro vai un altro un altro dai un altro un altro per forza tre per forza un altro ho detto queste multi fanno fischiare vabbè 2 va bene dai questa multi è costata 8 va bene ci siamo rifatti praticamente quasi una multi va bene ok andiamo adesso a 50 perché prima si andava a 40 quindi adesso si va a 50 uno vai secondo quattro stelle un altro è tutta da multi ce lo meritiamo a sto punto possibilmente che ho fatto c6 così almeno direttamente una pull intera vediamo no fine da multi ok adesso facciamo 60 e poi dobbiamo convertire le le saldritte 60 questa di fiducia un altro qui un altro vi sono uscito allo stesso pt di prima quattro stelle alla seconda single della multi vediamo vediamo comunque io stavo ripensando una cosa che non c'entra niente con Genshin quindi andiamo 70 manca una multi risparmiata eh navia nemmeno una ok un'altra un altro quattro stelle dai qui è proprio la prima bene grazie 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 allora se vinciamo c1 se perdiamo fagiano garantito quindi molto bene arrivare con il garantito al 5 stelle non mi dispiace affatto sono sincera va bene tutto va bene tutto va bene tutto allora ok 76 75 questa 76 77 78 79 79 c1 oh va bene dai buono 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 c1 dai sono contenta sono molto contenta così posso fare una multi su Che Bros senza avere l'ansia di perdere il garantito molto bene dai c1 sono super contenta due trappi